segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te senta io penso invece se posso che è sbagliato questo modo di porsi noi voi noi l'occidente voi c'è perché ci si deve rivolgere nei confronti di un grande popolo che ha tanto da insegnarci che ci ha dato tanto noi siamo riusciti a censurare tchaikovsky oppure a fare cose inaudite no oramai ecco quindi allora perché è questo l'atteggiamento poi quello che diceva sallusti che qui invece c'è una libertà totale non è vero perché magari anche loro avranno visto le immagini di genova l'abbiamo dimenticato l'abbiamo dimenticate quelle immagini al famoso g8 allora uno può dire certo ma quello che è accaduto lì credo che non sia una manifestazione di grande come dire rispetto delle regole o dei diritti no perché ho benissimo sai che sono stati tutti condannati quelli signori lì devi imparare una cosa sai che sono stati tutti condannati ascolta Alessandro io capisco che tu sei un direttore e domani ti piazzi a te fammi parlare giustamente lo dici tu poi non so se te lo sei meritato o meno non sono io a doverlo dire ma il punto è un altro è che tu domani fai un'editoriale dopo domani ne fai un altro e mi attacchi quindi sei privilegiato allora stai calmo esprime suo parere un direttore fa un'editoriale certo che lo può fare però siccome Massimo mi devi far finire il discorso sai quante volte mi rompono a me Massimo lui ha scritto che io sono un'ammiratrice di solo questo ha scritto no e no non mi va bene certo perché è un insulto certo che è un insulto perché io sono un'ammiratrice di Vladimir beh posso dire che è un bell'uomo rispetto a lui che lo preferisco ma questa è un'altra cosa io faccio la giornalista e quindi io mi informo io stanotte ho ascoltato beh questo lo dici te io faccio la giornalista e se la mia storia non la conosci il punto è questo se mi fai chiudere io stanotte mi sono ascoltato a quattro ore il documentario di Oliver Stone fai ridere anche il compagno Obrano vabbè non ridere allora trattieniti per un attimo non ridere il documentario di Oliver Stone fai ridere lui di Oliver Stone allora è un buon segno il documentario di Oliver Stone fai ridere lui altro che un bisogna leggerle cose vederle quella era un'intervista asservita a Putin no e quante cose ho imparato di chi è Putin e di che cosa aveva in mente capire quello che ha detto Cacciari se noi vogliamo trovare una soluzione dobbiamo capire dobbiamo cercare le ragioni che ci hanno portato fin qui ma è toque in